Non posso servirla. Allora, lei lo sa che di solito le ordino per telefono, vero? Sì, vero, brava. Era talmente una bella serata, mi son detto, lo vado a trovare in negozio. Eh, bella di allora, guardi, ho preparato un masso di fiori, giusto, giusto per lei. Guardi che bello, guardi, 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 senta, senta. No, non sarà mica allergica al polline, eh? Eh, mi stai dissi... No, no! Eh, eh, no! Bologna, bella di... Che starnuto esagerato, eh? Mi dispiace. Eh, ma l'ho distrutto il negozio. La prossima volta, signorina, i fiori me le ordini per telefono, che è meglio, eh? Sì, ma so che è la soluzione migliore. Eh, sì, eh? Papere, papere! Lonti, guardi, guardi qua, ma non sono neanche assicurata. Allora io vado, eh? Eh, vada, vada. Ci penso io a mettere ordine, eh? Grazie. Ma guarda che roba. Piantala. Io qui non ho starnutito, eh? Ma cosa fa? Cerca di riempire il bicchiere con questo vento! Resterà assetato. Col vento le porte di vetro sono sempre a rischio. Non si stali sul boma! Hai fatto proprio una bella strambata! In veranda soffia un venticello davvero sinistro. Bisogna porre rimedio. Ecco, tutto risolto. Grazie a tutti! Grazie.